Il Luna Park dei Baracconi a Pian di Massiano si conferma un successo anche quest'anno. Vincenzo Lascala, responsabile della Commissione degli Operatori, esprime soddisfazione per l'affluenza, in linea con il 2022. Le temperature favorevoli hanno contribuito a un mese di divertimento per adulti e bambini, con una proroga concessa ai giostrai che permette di rimanere in città fino a domenica 17 novembre. La proroga si è resa necessaria poiché il 10 novembre, giorno inizialmente previsto per la chiusura, coincide con il derby tra Perugia e Ternana allo stadio Renato Curi, con inizio alle 15, per motivi di ordine pubblico, anticipato alle 12.30. Il Luna Park resterà chiuso durante l'orario di accesso e uscita dallo stadio. Questa settimana si preannuncia ricca di eventi per Pian di Massiano. La mattina di mercoledì è dedicata ai bambini con disabilità, seguita dalla festa del bambino, che si svolgerà da mercoledì a venerdì, con giostre accessibili per gli studenti di scuole materne, elementari e medie, accompagnati da personaggi e truccatori. Venerdì pomeriggio è prevista la premiazione del concorso per animali domestici, la carica dei 101, in onore del centunesimo anniversario del Luna Park perugino. Giovedì mattina, alle 11, l'arcivescovo di Perugia, Monsignor Ivan Maffeis, celebrerà la Santa Messa insieme a Don Francesco Medori, mentre alle 10, gli studenti delle superiori degli S. Cavour Marconi Pascal saranno coinvolti in una visita di ispezione delle giostre, per esaminare la sicurezza elettrica, elettronica e meccanica, in collaborazione con gli operatori del Luna Park.